Sai perché dovresti venire a fare Kung Fu nella nostra palestra? Io non lo so di preciso, ma gli altri hanno le idee ben chiare. Sai perché siamo un gran gruppo e per imparare il vero ci si pallancione. Perché ogni giorno si imparano cose nuove che ti possono essere sempre utili. Il nostro maestro ha sempre grande passione e la trasmette sempre a tutti quanti. Che mi diverso! E perché è bello! Quindi consiglierei a tutti di venire nella nostra palestra.